Paolo Conte alla Scala, il maestro e nell'anima di Giorgio Testi, film fuori concorso al Festival di Torino. Sono presenti, e qui l'emozione si fa sentire, Caterina Caselli, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Sugar, Filippo Sugar, amministratore unico di Sugar Play, Giorgio Testi, regista, Pasquale Plassino, sceneggiatore, Gian Paolo Letta, Vice Presidente e amministratore delegato di Medusa Film. In prima fila abbiamo Andrea Lazzarin di Medusa, grazie. Allora, iniziamo subito, un po' mi trema la voce, colpa sua della direttore. Allora, è stato proiettato direttore il film perché io l'ho visto in un'altra sede? No. Alle 9 stamattina, è vero, sì. Per la stampa è stato proiettato, altrimenti non... Va bene, poi vediamo. Allora, io la prima domanda la faccio alla signora Caselli, volevo chiederle, io lo dico sempre, le mie domande sono veramente, fanno, epocali. Volevo sapere come è nata l'idea di fare questo, di questo progetto, di questo prodotto. C'è da schiacciare un tastino al centro delle e si accende una luce rossa magica. Ecco. Beh, diciamo che l'idea io l'avevo da qualche decennio, perché da quando ho cominciato a lavorare per Paolo Conte e ho capito la grandezza di questo maestro. E anche proprio nella sua peculiarità creativa che comprende, insomma, è un musicista sublime, ma anche i testi sono straordinari, i suoi disegni. E quindi da quel momento, io mi ricordo qualche tempo prima, passai proprio davanti alla scala e c'era anche Dion Warwick in macchina e c'era Johnny Porte che lavorava con noi e disse «Vedi Dion, questa è la scala, ti piacerebbe cantare lì?» E lei disse «It's a dream». Allora da quel momento io associavo la scala con Paolo Conte, perché trovavo che lui fosse davvero un fuoriclasse e che quindi questo teatro che è normalmente glorioso, che normalmente ospitava grandi musicisti, direttori d'orchestra, insomma, però nell'ambito operistico e classico, io trovo che Paolo Conte è un classico, cioè la sua musica fa parte e legittimamente può essere considerato un classico, è un fuoriclasse e fuoriclasse personalmente ho sempre pensato che potessero meritarsi quel palcoscenico. Naturalmente questa è una bella idea, ma è stata addormente per un po' di anni, poi mi sono trovata a sentire un concerto, ad andare a un concerto di Paolo Conte all'Arcimboldi, perché spesso andavo a vedere i concerti di Paolo, perché in ogni concerto c'è sempre qualcosa di personale, di momento magico, che è irripetibile. E alla fine del concerto disse, no, lui deve andare assolutamente alla scala. E lì ci siamo mossi, devo dire, grazie anche alla condivisione proprio dell'artista insieme al Ministero della Cultura e anche al direttore alla Scala, insomma è arrivato il momento. Ogni tanto i miracoli ci sono e la tenacia vince sempre. Grazie. Una domanda sempre alla Sugar, nel caso di Filippo. È stato difficile convincere questa istituzione classica, questa istituzione quasi intoccabile, ad aprire alla musica cosiddetta pop, che poi in realtà poi nei confronti di Paolo Conte il termine pop forse mi sembra un po' limitativo. Devo dire di no. Io, appunto, dopo questo input ne abbiamo parlato, soprattutto col sovrintendente Dominic Meyer, che è francese e quindi per nostra fortuna grande amante. Eccolo, eccolo il trucco, eccolo il trucco. Devo dirti che io stesso sono stato sorpreso da come il sovrintendente abbia accettato questa proposta. E' stato abbastanza... Poi devo dire, abbiamo avuto l'occasione di lavorare con il teatro e, sai, portare un concerto di musica, diciamo, cantautorale. In quel contesto avevamo anche un po' di timore di relazione con tutto il team della Scala. Invece sono stati veramente super, super disponibili. Forse qualcuno avrà detto era ora. No, è stata veramente una bellissima esperienza anche produttiva. Siamo stati... Per noi era una sfida anche, insomma, produttiva. E ci hanno reso il lavoro molto, devo dire, molto facile. Grazie. Giorgio Testi, regista che tutti vogliono. Io oggi ho letto nel web, stavo guardando tutte le cose. Giorgio Testi, io volevo chiederti, appunto, come si riesce a far diventare un concerto un evento cinematografico. Ma innanzitutto... Cioè, mi hai chiesto tutto, praticamente. Esatto. Entrando nel progetto in punta di piedi, direi. Perché comunque, come hanno detto loro, diciamo... Io sono arrivato con tanto rispetto per il progetto, perché non era solamente Paolo Conte. Anche lavorare per Caterina Caselli, tutto il mondo Sugar. Comunque era un progetto di pesi massimi, in un certo senso. Quindi rispetto per Caterina e anche fiero di essere stato scelto da Sugar per portare a termine questo progetto. Rispetto per Paolo Conte, che era un artista con cui ovviamente avrei sognato di lavorare, ma non avevo mai avuto modo fino a quest'anno. E rispetto per La Scala, che comunque è un avenue in cui io ho avuto modo di lavorare tre anni fa, ma era in pieno lockdown, quindi era una situazione completamente differente rispetto a quella di quest'anno. E l'idea per me da sempre non era quella di fare un normale film concerto con riprese spettacolari per fare intrattenimento. L'idea era quella di fotografare questo evento storico attraverso una lente cinematografica, cercando di fare qualcosa di molto intimo, ma non solo intimo da un punto di vista di avere la macchina da presa così vicino a Paolo da poter far vivere allo spettatore a casa quasi l'esperienza di star lì con lui. Io volevo proprio entrare dentro la testa dell'artista, perché comunque è un personaggio particolare. Quindi da lì l'idea di utilizzare quest'intervista magistralmente eseguita da Pasquale Flastino, qui presente, non solo come un'intervista, ma quasi come un voice over, flusso di coscienza. In alcuni momenti, se avete fatto caso, anche durante il concerto le immagini vanno in slow motion, improvvisamente il volume della musica scende per dar spazio al pensiero di Paolo. Tutto ciò anche che non è live performance, partendo da tutta una serie di scene che abbiamo messo in piedi. Alcune cose non è tutto documentario, cioè ci sono delle parti, fra virgolette, fictional, che abbiamo rigirato con Paolo, da lui davanti al proiettore, piuttosto che le animazioni, piuttosto che anche quei momenti docu e di preparazione al concerto, sono tutti a servizio del... per capire di più cosa passa nella sua testa anche in preparazione a uno show del genere. Ed è molto carino, è stato molto carino per me vedere anche come, contrapponendo l'intervista di quest'anno, a spezzoni di interviste del passato, esce fuori comunque... c'è una coerenza all'interno di tutta la carriera di Paolo, è rimasto sempre coerente con se stesso e la cosa carina per me, a me piace sempre elevare in un certo senso l'artista con cui lavoro, per me è sacro e quindi cerco sempre di far di tutto per creare un qualche cosa che possa essere di ispirazione. e con Paolo non c'era neanche bisogno di fare questo genere di lavoro, come... c'è questa frase, mi sa, di Edoardo De Filippo che dice l'attore quando va in scena arriva da molto lontano e che è una cosa molto bella, che è applicabile in tanti campi, anche nello sport, anche nella musica, nel senso alle volte c'è una vera e propria trasformazione dalla persona, artista, backstage, a quando poi va in scena, che è una cosa bella e che spesso mi piace anche analizzare. Con Paolo non è così, cioè per me tutto quello che abbiamo fatto al di fuori del suo essere artista sotto i riflettori era sempre lo stesso Paolo, che per me resta tuttora uno degli artisti più cool, diciamo, per non dire figo, con cui puoi sperare di poter lavorare. Lo capisco perfettamente. Pasquale Plastino, intanto vorrevo sapere come ti è stato proposto questo progetto e poi lavorare su una sceneggiatura di un personaggio così, alternandola anche a dei momenti del passato, perché ci sono anche delle immagini di repertorio. Io avevo già avuto questa esperienza con questo film documentario che abbiamo fatto su Caterina, e quindi dove è nata una certa, con la regia di Renato De Maria, che era passato l'anno scorso, no? E da lì è nata, c'è nata una grande stima reciproca, e quindi Caterina mi ha proposto di avere un'idea, ma che idea si può avere su Paolo Conte alla Scala, al di là dell'evento straordinario che era. Paolo Conte è stato sempre raccontato, diciamo, attraverso la sua musica, ma Paolo Conte non è soltanto la musica, ma è anche e soprattutto, secondo me, un grande scrittore di testi, di immagini, di immagini, direi addirittura un scrittore cinematografico, perché tutte le sue canzoni possono essere messe tranquillamente in scena con la macchina da presa, possono essere... e quindi volevo cercare, nell'intervista che molto carinamente ci ha concesso, di estrapolare dei temi dalle sue canzoni che potessero raccontare, però nello stesso tempo, la sua biografia, le sue cose più... i suoi ricordi più importanti. E devo dire che è stato un gioco che in parte è abbastanza riuscito, perché ha tirato fuori delle cose singolari. E quindi poi Giorgio ha giustamente, attraverso il montaggio, creato questa alternanza con pezzi e secondo me il risultato è stato, penso, una buona riuscita. E a questo punto, se è concluso la concettualità, passerei la palla, il microfono, diciamo così, a Gian Paolo Letta, a cui chiedo intanto come entra Medusa in questo progetto. E poi questa è una mia curiosità, volevo sapere se questa esperienza vi ha dato poi così l'idea di magari continuare su questo tipo di strada. Buongiorno a tutti, innanzitutto il film uscirà al cinema il 5, il 6, il 7 dicembre, quindi lunedì, martedì e mercoledì, il prossimo come evento speciale, in più di 250 schermi, quasi 300, 4 scusate, 4, 5 e 6, ho sbagliato io, 4, 5 e 6 dicembre. Noi avevamo già in passato avuto una frequentazione con la musica, l'ultimo film che abbiamo distribuito a settembre è stato il bellissimo documentario su Enzo Giannacci, abbiamo fatto anche due, non esperimenti, ma insomma due tentativi veri e propri, con dei veri e propri concerti, Claudio Baglioni alla Caracalla e poi all'opera, quello che fece durante il Covid, abbiamo fatto Ligabù, insomma ci piace molto la musica chiaramente e ci piace molto il connubio musica-cinema. In questo caso quando Filippo mi ha chiamato proponendoci l'idea di distribuire al cinema qualcosa che non è un concerto, innanzitutto è un signor concerto, ovviamente a cominciare dal Maestro Conte, la Scala di Milano, tutti gli elementi super, ma c'è molto altro perché è un bellissimo racconto, molto intimo ed emozionante, è un viaggio, Paolo Conte ci prende per mano letteralmente e ci porta a contatto della sua musica, del suo mondo, del suo rapporto con la musica, del suo rapporto con i musicisti e poi soprattutto anche molto spettacolare perché è un'occasione per vedere il dietro le quinte della Scala, il dietro le quinte di un concerto come quello e ottenere poi un coinvolgimento molto appunto emozionante. Abbiamo creduto subito nel progetto, innanzitutto perché la garanzia da Casa Sugar, chiaramente Caterina Caselli e Filippo, è assoluta, ma anche perché abbiamo pensato che potesse essere una bellissima occasione per tutti coloro che non sono potuti ovviamente andare a vedere e ascoltare il concerto alla Scala, di poterne godere, in una dimensione particolare perché è su un grande schermo con un suono da cinema e quindi di altissima qualità e anche avvicinare magari gli spettatori cinematografici al mondo di Paolo Conte e soprattutto forse i più giovani che magari lo conoscono meno, avvicinarli al mondo della musica e alla Scala stessa, al teatro alla Scala. Perché no? Perché no? Abbiamo sei minuti, c'è qualche domanda? Salve Francesco Carlo, Gesianza, una domanda per la signora Caselli o chi vuole rispondere. Siccome il grande assente è Paolo Conte, allora la mia curiosità è come ha reagito Paolo Conte quando ha saputo questa cosa, come ha affrontato questo concerto così singolare? essendo un uomo immagino schivo, insomma particolare, volevo sapere un po' di retroscena. Grazie. Chi risponde? Eccoci. Sono abituato col microfono. Sì, infatti. Ma allora, Paolo Conte ha reagito dicendo che bisogna affrontare questo teatro con energia. Questo ha detto. Effettivamente, l'ho anche detto credo nel film, se ricordo bene. Ecco. Era molto contento naturalmente. Diciamo che il Paolo Conte è stato in tantissimi, in tutto il mondo, in teatri prestigiosi. Certo la scala è la scala. E quindi per lui è stato un momento così, di stupore, ma anche, diciamo, di, appunto, bisogna affrontarlo con l'energia, ha detto. Allora, un'altra domanda. Abbiamo quattro minuti di tempo. Ecco, ce n'è una lì. Un attimo, arriva il microfono, si sentiamo tutti. Grazie. Sì, Luca Castelli del Corriere Torino. Due domande in realtà, ma credo sia veloce. Va bene, la seconda è dieci euro, ho già detto prima. Una immagino a Sugar sul lavoro sulla musica che è stato fatto, anche come portare la musica della scala al cinema in un film, se avete fatto un lavoro particolare sull'audio. E uno, immagino alla signora Caselli, ma vedete voi, è sulla scelta del Torino Film Festival per presentarlo. Se ci sono dei legami, se è solo calendario, ho visto che esce tra poco nel cinema, o se ci sono altri legami, altre cose particolari. Sulla musica e sulle riprese, mi viene da dire, perché la cosa che, io sono un grande fan di Paolo Conte, perché tutta la nostra famiglia di generazione in generazione è fan di Paolo Conte, quindi io lo vedevo all'università quando studiavo fuori dall'Italia, mia figlia che qui in sala anche lei è fan di Paolo Conte, quindi è una malattia, diciamo, di famiglia. Avendo visto tanti concerti, voi sapete che Conte non parla durante i concerti, non dice nulla, quindi l'idea del concerto era proprio quella di entrare sul palco con lui, e quindi sia a livello di telecamere, con il lavoro che è stato fatto da Giorgio e da Blogotech, questa società francese che Giorgio ci ha consigliato molto molto bravi nel registrare dal vivo, e sia a livello di audio con un primo lavoro fatto da loro e poi abbiamo fatto fare tutto il messaggio dal gruppo di lavoro di Paolo, quindi dai musicisti di Paolo, perché chi ha visto il film vedrà che Paolo è protagonista, le canzoni sono protagoniste, la sua storia, ma anche i musicisti di Conte escono come dei veri protagonisti, dei veri solisti. Quindi è stato fatto un lavoro per cercare di farci vedere quello che a volte nel concerto, o farci ascoltare, quello che a volte nel concerto ci sfugge per la distanza che abbiamo. Grazie, la conferenza è finita. Ah, la seconda, scusami. Abbiamo scelto, abbiamo proposto al Festival di Torino, perché abbiamo sempre reputato che questo Festival ha sempre prestato molta attenzione alla qualità, e siamo stati felici di esserci qui, e quindi siamo, come dire, mi sembra che sia il Festival, diciamo, perfetto per un artista come Paolo Conte. Lo è senz'altro, lo è senz'altro. Volevo ricordare che la signora Caselli, oggi alle 16, sarà protagonista di una masterclass, dove tutti staremo lì a sentire avidamente quello che ci racconterà. Grazie a tutti e buona giornata. Grazie a tutti.